Mister Giardina, l'impatto con il campionato non è stato positivo perché comunque subito vi ha messo di fronte due squadre molto attrezzate di questo torneo che sono il Bagheria e sabato il Montreale. Una sconfitta che ci può stare, però la squadra comunque ancora continua a macinare buon gioco ed è nella partita, poi sono dettagli che fanno la differenza. Sì, infatti ho detto bene Paolo, sabato abbiamo fatto una grande partita a Montreale, abbiamo speso tantissimo, diciamo che magari il risultato è un po' bugiardo perché magari uno che vede 8-4 ma la partita è andata in maniera diversa perché sicuramente abbiamo iniziato sempre con quel handicap, siamo andati sotto subito 2-0, poi nel secondo tempo la squadra del Montreale ci ha fatto altro gol, quindi siamo partiti sul 4-0, sul 4-0 lì ci siamo veramente risvegliati, abbiamo dimostrato che possiamo stare in questo campionato, abbiamo ridotto le distanze, ci siamo portati sul 4-3, abbiamo avuto diverse occasioni da fare gol, poi diciamo che insomma siamo arrivati al trentesimo che eravamo 5-4, però poi c'è stata una giocata di un grande campione come Carletto Amici che insomma ci ha fatto il gol del 6-4 e un po' lì ci ha diciamo... Ci ha veramente demoralizzati forse, però eravate quasi alla fine insomma anche con un gol di scarto, mancava poco e poi insomma da lì la squadra non c'è stata più forse. Sì perché poi negli ultimi minuti di recupero ho cercato insomma di recuperare la partita facendo il quinto del movimento, però lì si sa benissimo che al primo errore la paghi, però diciamo che tirando le somme a lunghi tratti abbiamo fatto veramente una grande partita, abbiamo giocato alla pari anche con il Monreale, nonostante il Monreale abbia 3-4 giocatori di grandissimo livello, abbiamo trovato un ambiente fantastico, di questo mi permette ringraziare la società del Monreale, delle persone di Tonisabella, di tutti gli altri dirigenti che ci hanno... sono stati veramente ospitali. Devo ringraziare d'altresì il presidente Massimiliano Bilcher che rappresenta la partita. Che dire, diciamo che abbiamo fatto una grande partita, abbiamo fatto divertire il tantissimo pubblico presente, però adesso dobbiamo analizzare e vedere che ci sono molti... ci siamo... diciamo sono i dettagli che poi ti portano alla sconvita, anche perché quest'anno il campionato è molto più competitivo, magari l'anno scorso ti potevi permettere in Serie C2 di fare alcuni errori, quest'anno al minimo errore subito ti puniscono perché c'è molta intensità, perché i giocatori sono di livello, e quindi dobbiamo cercare di andare a migliorare questi errori, errori che magari sono di piccola identità, però che poi alla fine incidono nel risultato. Quindi questa settimana ci dobbiamo rimboccare le maglie, dobbiamo lavorare su questo, ci dobbiamo far trovare pronti, dobbiamo iniziare subito, senza quell'handicap, di andare sotto, insomma di preparare bene questa gara, perché sabato contro lo Sporting Alcamo dobbiamo sicuramente cercare di vincere e portare a casa tre punti. Ecco sabato siete in casa, giocherete di nuovo al Palazzetto e lo Sporting Canicattia, naturalmente l'invito è anche al pubblico a sostenervi perché quando c'è un buon pubblico, questo l'ho dimostrato anche nella partita che avete giocato sabato il pubblico di Monreale, la squadra comunque è incitata, riesce a girare meglio. E' chiaro che naturalmente i valori tecnici in campo poi fanno la differenza, però lo abbiamo detto e continuiamo a ripeterlo, il suo Canicattia ha un buon roster. Sì sicuramente, oltre alla spinta del pubblico però anche, dimenticavo magari di sottolineare che sabato scorso ci siamo presentati a Monreale con un grosso handicap, mi è venuto a mancare per la partita l'altro giocatore under e quindi sono stato costretto a giocare 60 minuti senza poter togliere l'under dal campo perché c'è questa normativa di avere il giocatore under sempre in campo, quindi Francesco Mongato ha dovuto giocare 60 minuti, non c'era Cottone per motivi familiari, non c'era Mongato, quindi non voglio cercare alibi però voglio dire alla fine anche Gianluca Sgro, che è il nostro faro, il nostro leader in campo, purtroppo dopo 5 minuti è dovuto pure abbandonare, è andato solo negli ultimi minuti per fare il quinto del movimento, quindi diciamo queste cose si sono sommate anche all'inesperienza di qualche giocatore che per questo campionato è nuovo e di conseguenza è maturato questo risultato negativo, però che dobbiamo prendere le cose positive che abbiamo fatto, siamo stati in partita come ripeto fino alla fine e dobbiamo partire da lì, da questa situazione.